vi auguro la buonanotte con questo messaggio molto presto decidi lucidamente cosa vuoi così che avvenga ora questa carta ti chiede che cosa vuoi e pretende una risposta molto chiara e precisa così come fai un ordinazione al ristorante l'universo ascolta i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti sulla tua vita amorosa e ti porta ciò che chiedi quando ti lamenti di ciò che ti è stato servito è solo perché hai espresso un ordine poco chiaro se chiedi senza mezzi termini ciò che desideri esso verrà a te in un istante su ali d'angelo hai attratto questa questa carta perché è tempo per te di essere chiaro e onesto con te stesso e di formulare le tue richieste con fiducia e ottimismo confida nei tuoi sentimenti e scegli cosa è meglio per te questo è il messaggio di questa sera per augurarvi la buonanotte